Sui social la chiamano la nutria espiatoria. Le sue tane, aveva detto l'Aipo, subito dopo la rottura dell'argine del Secchia, assieme a quelli di Tassi e Volpi sarebbero state le responsabili del disastro. In realtà una buona manutenzione del territorio e altri accorgimenti permettono agli insediamenti urbani sorti vicino ai fiumi di convivere pacificamente con i tanti elementi della natura. I piani di abbattimento non sono efficaci, soprattutto nel medio e lungo termine. Difatti possiamo notare dalle statistiche che più si uccidono comunque animali, più l'anno dopo ne devi uccidere ancora. Se un metodo fosse valido sarebbe risolutivo nel breve tempo. Esistono in realtà altri metodi di tipo ecologico che possono essere utili, soprattutto in questi casi. Per esempio le reti antinutri e antigambero, oppure lasciare delle fasce tampone, cioè di vegetazione spontanea. La stessa vegetazione che con le radici tende a mantenere stabile la struttura e parallelamente a evitare che le nutrie possano scavare nell'argine. Poi il problema nutrie rimane, soprattutto perché il nostro non è il loro territorio naturale. Importata da Sud America per farne pellicce, in Italia questa varietà di castoro ha meno predatori naturali. Ma contenerne il numero è possibile sempre affidandosi alla natura. Lo ha dimostrato un comune del milanese che pochi anni fa ha avviato una sperimentazione che ormai viene già definita il metodo bucinasco dal nome del paese. Una sperimentazione autorizzata dall'ISPRA, dalla regione e dalla provincia, che riguarda proprio la sterilizzazione chirurgica di esemplari maschi e femmine di nutria in colonie urbane e suburbane. Perché mi raccomando, non vogliamo affatto sterilizzare chilometri di colonie di nutrie in campagna. Lo facciamo solo in quegli ambiti dove c'è una certa sensibilità e dove il fenomeno può essere facilmente monitorabile e controllabile. Con questo metodo noi svolgiamo anche un progetto di ricerca a livello di epidemiologia, ma anche a livello di ricerca pura, per vedere come la nutria si interfaccia e interagisce con la fauna locale. Con questo metodo noi svolgiamo anche un progetto di ricerca.